salve questo video serve come aggiornamento al primo video del canale su sinelera gg infinity l'aggiornamento risulta necessario per l'enorme numero di nuove funzionalità e di caratteristiche che sono avvenute nell'ultimo anno anno e mezzo da quando ho fatto il primo video la prima e più evidente innovazione è il nuovo sito che ha il suo proprio dominio sinelera trattino gg.org questo nuovo sito sottolinea un distacco dal vecchio sito dal vecchio sinelera cv la community version perché la filosofia dei due sinelera era diventata molto divergente sinelera cv si era basato sull'estrema stabilità di funzionamento ma senza ammettere nuove caratteristiche nuove funzionalità sinelera gg invece si è buttata sulle nuove funzionalità spesso dettate dagli utenti che le richiedevano e è diventata praticamente una rolling release degli editor video perché esce ogni mese e ogni mese ci sono tante nuove funzionalità in più per avere un anteprima delle funzionalità che ha assunto sinelera gg si può vedere sono 10 le distro linux sopportate fra cui da ultimo si è aggiunto anche gentu e c'è fra queste anche una free bsd grazie a un utente che si è offerto di fare il porting nel suo sistema operativo poi ci sono anche due distro che includono di default sinelera gg una v linux che è fatta da un utente di vecchia data di sinelera e che lui ha uno studio di registrazione e produce filmati musicali di grande qualità ma non solo ha creato anche questa sua distribuzione per uso personale basata soprattutto su sull'editing audio essendo lui è un musicista ma che contiene anche sinelera gg e l'altro è la versione media di body linux creata da un italiano oltretutto la ratteristica molto importante del nuovo sinelera gg e il suo sviluppatore gg o good guy o bill che ha un rapporto diretto con noi utenti noi utilizzatori che in parte diventiamo anche piccoli contributor come sono io per esempio e questo fa sì questo rapporto diretto che vengano richieste che vengano segnalati bug che vengono fissati molto velocemente da gg a cui dà la priorità ma soprattutto accoglie le richieste degli utenti di nuove caratteristiche quindi sinelera gg si sta sviluppando secondo i gusti workflow dei vari utenti che richiedono delle funzionalità che per loro sono buone da avere nel programma il contatto con lo sviluppatore con gg si può fare tramite il forum oppure tramite la mailing list o ancora col bug tracker un utente anche aggiornato la pagina su wikipedia di sinelera mettendoci sinelera gg infinity che finora era assente un'altra novità molto bella e molto grossa è il manuale pdf storicamente sinelera gv aveva il suo manuale che era basato su quanto scritto dal creatore originale adam williams per il suo sinelera hv ero in virtual questo però non era mai stato aggiornato e quindi quando c'è stato il fork di sinelera gg è stato creato un secondo manuale per dire le novità in più rispetto al vecchio manuale di sinelera cv quindi c'erano due manuali perché voleva studiare e approfondire la conoscenza di sinelera gg le basi che erano quelle del manuale di sinelera cv e le novità che via via venivano aggiornate relative al solo sinelera gg bene è stato fatto con un enorme sforzo in po più di un anno sono fatto l'unione dei due manuali completando le aggiornando le migliorando il sotto ogni aspetto quello che viene fuori è questa nuova versione di quasi 600 pagine e che per di più è stato trascritto in latex e quindi ora i contributi e altri utenti e i ritocchi e l'aggiunta e le migliorie sono diventati molto più facili e molto più centralizzati tramite repository su jit ho contribuito alla traslazione in latex e ho anche contribuito al capitolo dei plugins soprattutto sui video plugins e soprattutto sulla color correction di cui mi intendo appena un pochino di più nel resto questo è in continuo sviluppo è un work in progress si potrebbe dire perché vengono sempre aggiunte via via e le nuove funzionalità vengono implementate viene cambiato e aggiornato anche il manuale l'ultimo cambiamento riguarda proprio di oggi è stato un mio contributo per esempio ritornando al sito volevo anche far vedere che ci sono state fatte anche la traduzione in più lingue in tedesco italiano spagnolo e francese la traduzione italiano ho contribuito anch'io diamo uno sguardo ai nuovi strumenti una novità andiamo nei settaggi alla performance che si possono usare dei device hardware cioè delle gpu hardware per fare per velocizzare alcuni calcoli si può avere per decoder e incodere l'accelerazione vapi per intel e amd soprattutto vd pau per l'invidia e anche qrnvenc per le schede video nvidia come quelle che ho io attualmente per esempio lo strumento maschera è da una finestrina delle opzioni piccola così guardate quanto è diventata grande e ricca e complessa da utilizzare infatti ora ne parlerò solo molto brevemente perché è diventata così potente e ricca di funzionalità che penso che dovrò dedicarci un intero video al rotoscoping in generale e all'uso delle maschera in generale rgg in particolare ci sono i preset ci sono preset che possiamo modificare ovviamente come ci pare possiamo trasformarle da da smostrate da colpe peser ad angoli acuti lo possiamo fare a uno o più punti selezionati oppure a tutta la maschera selezionata oppure usando il gang feather a tutte le maschere contemporaneamente oppure alla sola maschera selezionata oppure soli punti selezionati di una maschera poi c'è lo strumento feather che anche questo lo possiamo fare a una singola maschera oppure tramite lo strumento gang feather a tutte e contemporaneamente lo strumento fade per renderlo trasparente sempre più trasparente un'altra grande funzionalità è stata introdotta la rotazione oppure la scalatura e anche questa indovinata un po si può fare a tutte o a uno ne parleremo in un video dedicato un altro strumento che ha a che fare con le maschere è lo strumento tracer è un plugin che funziona un po come la bacchetta magica di gimp in modo da creare delle forme delle maschere organiche che si adattano ai bordi delle immagini vogliamo riprendere per esempio possiamo provare a selezionare questa auto rossa e poi si può continuare a introdurre punti e poi si possono anche spostare per adattare introdurre nuovi punti e si spostano semplicemente il tasto sinistro del mouse per migliorare la nostra maschera si può fare anche la rotazione il ridimensionamento anche col 3 6 plugin poi parliamo invece dello sketcher plugin questo ha bisogno di un po di chiarimenti quando dicevo del rapporto diretto con gg lo sketcher plugin è dovuto a una mia richiesta e avevo richiesto esplicitamente un plugin uno strumento per poter disegnare sul frame sulla canvas e poi poterlo animare per avere quindi un minimo una semplice motion graphics gg mi rispose dicendo che non era tanto il suo campo questo che pensava fosse difficile che riuscisse a tirarci fuori qualcosa pensate che la motion graphic è adatta a programmi di compositing come fusion nuke o questi grandi programmi di compositing ma è molto raro è molto difficile avere in programmi di video editing quindi gg che è un puro editor non si sentiva molto competente per implementarlo bene il risultato è che una settimana dopo la mia richiesta e che lui mi aveva detto e la vedeva difficile ha tirato fuori lo sketcher plugin che permette di disegnare sulla canvas proprio come avevo chiesto io facciamo un nuovo punto per esempio diamo lì un un altro colore questo è orribile ma molto chiaro facciamo vedere come si fa con shift e il tasto sinistro del mouse si creano i punti che poi possono essere rotati ridimensionati poi quel controllo possiamo cambiare spostare possiamo posizionare i punti possiamo riempirlo come ho fatto con la stella possiamo anche andare e questa invece è la stella possiamo girare anche questa può rimpiccolirla ingrandirla e fare grazie all'uso dei keyframe automatici possiamo animare le nostre composizioni e i nostri disegni cioè appunto quella che è la motion graphics e tutto questo perché io ho fatto una richiesta e gg me l'ha prontamente esaudita ho nominato i keyframe per poter animare i disegni e anche se ne avevo parlato nelle altre puntate negli altri video volevo ricordare che i keyframe soprattutto l'automatismo dei keyframe è uno dei grandi punti di forza di sinel rgg perché sono molto comodi da utilizzare molto veloci molto facili da utilizzare e di una potenza estrema che secondo me rivaleggia con un qualsiasi altro programma anche di livello molto più alto di quanto sia sinel rgg penso che non mi crederete ma semmai proverete a usare i keyframe in sinel rgg mi darete subito ragione senza dimenticare poi che in sinel rr non c'è il plugin che è che fremmabile lo strumento che fremmabile ma ci sono anche quelli no in sinel rgg tutto quello che si può fare è che fremmabile tutto anche questo ne avevo già parlato ma un'altra delle potenti funzionalità di sinel rgg e l'uso della camera del proiettore questo c'è sempre il sound sinel rgg l'innovazione è stato questo questi bordi gialli che racchiudono e tengano memoria del bordo originale dell'immagine così quando andiamo per esempio poi sul proiettore e spostare dimensionale come ci pare abbiamo sempre il bordo giallo che ci ricorda la dimensione che abbiamo impostato nella camera o dimensione abbiamo impostato nel proiettore poi altre novità introdotte sul richiesta era di quando organizziamo i nostri media nella nostra cartella progetto e si tratta di portare clip sulla finestra viewer e da qui andare a scegliere le clip da importare nel nostro montaggio nella nostra timeline e quindi conoscere il contenuto una clip bisogna scorrere per tutta la clip per andare a sceglierla bene ora ci sono delle funzionalità che ci permettono di avere un anteprima e quindi riconoscere quando abbiamo tantissimi media riconoscere i primi cinque secondi per meglio evidenziarli facendo clic con il sinistro si ha un anteprima ingrandita e non solo ma facendo clic con il medio abbiamo anche quella che si chiama interview ovvero compare una barra nera con tratti bianchi nella parte superiore e una barra nera con tratti rossi nella parte inferiore la barra bianca india il pezzo della clip che è stato portato nella timeline è stato scelto una frazione una clip di tutto il sorgente è stato portato qui il nero rappresenta la timeline e questa è la posizione della clip invece la barra inferiore rappresenta la parte di tutto il sorgente questa è la timeline è detto mentre invece questa barra nera inferiore è tutto il sorgente la lunghezza del sorgente la barra rossa rappresenta la clip che è stata estratta dal sorgente e che risulta messa nella timeline quindi abbiamo un evidenza immediata di cosa abbiamo usato di dove è posizionata la clip nella timeline e di quale parte del sorgente abbiamo usato per creare la clip poi altra funzionalità importante è l'usare il trim le caratteristiche del trim cioè spostare i bordi per ridimensionare le clip in rapporto a quelle circostanti funzionalità dei clip sono le classi e tre ripple roll e slip in realtà ce ne sono altri due che sono slide e edge e che sono state implementate anche queste quindi adesso se nell'rgg è capace di usare tutte e cinque le modalità basta impostarle nelle preferenze siccome le più famose sono ripple roll e slip sono le più usate e quindi sono quelle di default ma niente ci vieta di usare tutte quelle che ci vuole nel tasto del mouse che vogliamo noi non solo ma usando il tasto shift in congiunzione quel tasto senso e mouse abbiamo lo split nella finestra composito che ci fa vedere il punto esatto delle due clip secondo il movimento e noi abbiamo dato al trim poi un'altra funzionalità è i colori possiamo dare i colori alle varie clip ai vari edit che sono nella timeline possiamo dare dell'auto color cioè quando si avvia il programma decide lui quale colore dare si può cambiarlo anche volontariamente il colore semplicemente facendo clic col tasto destro e usando l'opzione bar color qui abbiamo questo marrone veramente brutto non li vogliamo dare il classico rosso che fa pugni con la nostra vista però possiamo cambiarle di uno più come ci pare a noi piccoli dettagli ma che sono tutti derivati da richieste di utenti che ne sentivano l'esigenza e che sono state implementate e vi stessiamo qui ora può anche vedere il waveform qui è dimezzato perché è l'opzione time line rect the audio mentre se no possiamo fare la rappresentazione delle waveform a me piace molto di più ma non solo mi piace è anche più comodo perché ingrandisce e fa vedere più chiaramente i picchi e i gain delle forme d'audio altri filtri di cui parlare sono quelli audio non potrò essere molto esaustivo perché io di editing audio non sono molto competente comunque molti vecchi filtri sono stati riscritti e migliorati e sono stati aggiunti nuovi filtri uno di quelli riscritti è il compressore single band uno invece completamente nuovo è il compressore multibanda con le tre bande selezionabili e che vengono rappresentate nello spettro nel graffio delle frequenze in genere i compressori multibanda hanno quattro bande su cui operare per esempio vediamo quello il calf plug-in si vede che ha quattro zone di frequenze su cui operare ma questa non è una limitazione del compressore multibanda dei single RGG perché possiamo prima di tutto possiamo inclinare i bordi delle zone ma poi possiamo anche ingrandirli o ripicolirli dimensionarli insomma a seconda delle frequenze che vogliamo sfruttare in questo modo possiamo raggiungere e limitare e creare una piccola range di frequenze preciso piccolo grande ma soprattutto preciso quanto ci pare addirittura più preciso delle quattro bande dei normali compressori che sono fisse poi un altro nuovo plug-in è il reverbero che anche questo possiede un grafico delle frequenze e ha tutti i vari knot di regolazione Sinelera è dotato di diversi filtri audio ma non tantissimi però quelli che ci sono nativi sono molto forti sono molto potenti perché il creatore originale di Sinelera cioè Adam Williams è un musicista e aveva creato il programma proprio per fare editing musicale solo in un secondo momento aveva aggiunto la parte video trasformando in un software di video editing completo un'altra novità sono layout personalizzati chi ha mai aperto Sinelera si sarà subito accorto che questo non è il layout standard di Sinelera ma è uno che ho creato io ridimensionando e spostando le varie finestre a mio comodo dopo aver fatto questo lavoro possiamo andare in finestra salva layout io l'ho salvato come standard perché è quello che uso più di tutti altri possiamo fare un layout per la color correction o uno per l'importazione di media e come ci pare possiamo salvarli e caricarli quindi se siete curiosi di vedere la configurazione di default è questa la classica che probabilmente se voi avete mai aperto a Sinelera avete visto questa sicuramente poi un'altra novità molto richiesta è stata quella dell'usare i subfolder in genere prima con Sinelera si creava una cartella nell'hard disk e dentro le sottocartelle in cui suddividere i vari media la musica il suono le scene i rumori e tutto quello che ci pare però questo comportava che quando si portava il progetto in un altro computer oppure si faceva il backup in un altro hard disk e si potevano perdere i link e quindi quando si andava a riaprire il progetto in Sinelera e si poteva si doveva ricostruire tutta la struttura creando nuovi link ai nuovi cammini bene adesso è cambiato perché adesso possiamo fare sull'hard disk un'unica cartella progetto in cui mettere tutto e ammassare tutti i vari media video musicali effetti tutto quello che ci pare e poi lo organizziamo all'interno di Sinelera semplicemente un click destro e prendendo folder new media new clips modifica un folder già già creato oppure eliminarlo si può fare media e chiamiamolo scene scena questa compare e possiamo metterci ora si vede che nella cartella madre media sono rimasti tutti e quattro però se andiamo in scena abbiamo quelli due che abbiamo importato rendendo molto più organizzata logica e facile da usare il la cartella poi un'altra nuova funzionalità anche questa richiesta è la funzione transcode che praticamente renderizza tutti i media sia audio e video contenuti nella cartella progetto renderizza secondo il formato audio e video formato oppure codec con tutti i vari parametri esattamente come la cartella rendering che avevo già esaminato in un video precedente possiamo per esempio usare un intermedio digitale ad alta qualità come un ProRes o cose simili e trasformarli quindi tutto il nostro progetto in formati facili e efficienti e che non perdano in qualità nei vari passaggi altre due novità a lungo richieste sono l'editing basato sulle clip finora sinelera funzionava in due modalità di editing in drag and drop e in cut and paste che però sono modalità che riguardano la traccia nella sua interezza i plugin per esempio si possono mettere in tutta la traccia poi bisogna selezionare la parte dove mettere il plugin per circoscriverla però la base del funzionamento è su tutta la traccia questo è un comportamento insolito per i software di video editing che invece si basano sull'attivare un singolo edit e agire su quello uno o più edit e agire su quelli e solo quelli e non sull'intera traccia nella sua totalità questo è sempre stato uno scoglio per chi si è approcciato a sinelera però adesso a grande richiesta è stato implementato da gg anche la possibilità di fare editing basato sugli edit e sulle clip è semplicissimo basta fare clic sugli edit che vogliamo e poi si comportano esattamente come qualsiasi altro soft di editing sul mercato ci sono tutte le varie opzioni in questo modo sinelera diventa ancora più ricco perché ha tre modalità di editing di base un'altra caratteristica molto importante e molto richiesta è il supporto agli schermi ad alta risoluzione adesso c'è questo parametro layout scale con cui possiamo adattare l'interfaccia alla grandezza dello schermo io per esempio ho un QHD 2560 e 1440 e lo tengo però in modalità standard a uno senza ingrandirlo nel rimpiccolirlo perché a me mi va bene così però per chi ha un 4K per esempio conviene molto di più ingrandirlo altrimenti le lette diventano troppo piccole come vedete il mio monitor QHD è troppo grande mentre invece il settaggio originale mi va più che bene poi sono stato anche troppo lungo in questo video restano delle novità molto importanti come Open e DL ne parlerò in un prossimo video non ora perché è un'aggiunta troppo recente e anche complessa da utilizzare e capire come utilizzarlo e quindi io non l'ho ancora studiata abbastanza approfonditamente appena l'ho fatto pubblicherò un nuovo video più esaustivo Open e DL serve all'interno di un master project cioè un file DL in XML di poter variare solo una piccola parte selezionata in modo da poter fare modifiche solo su questa parte lasciando inalterato tutto il resto del master project poi si salvano queste modifiche e quindi il master project continua ad essere il vecchio file XML con la parte interna modificata da noi questo è uno strumento molto potente e che se messo insieme integrato insieme ad altri strumenti che già si nella era possiede come per esempio i proxy, il transcode che abbiamo visto poco fa le nested clips o le nested asset oppure le shared tracks che sono praticamente i livelli di regolazione di Premiere Pro funzionano in maniera abbastanza simile ecco, imparando un workflow basato su tutte queste caratteristiche possiamo arrivare a livelli di dettaglio di sofisticatezza dell'editing è veramente elevato bene, finiamo questo video con un appello quello che volevo dire è che il rapporto con GG è uno dei pregi come ho già detto però GG è un unico sviluppatore per un programma che ormai è diventato veramente grande ricco e potente quindi l'appello è per cercare nuovi sviluppatori che si offrano di aiutare specialmente nel campo della color correction per esempio sarebbe bello implementare un color management che è importante in un programma di editing oppure implementare i metadati che anche questo è una mancanza di Sineller oppure a me personalmente ho provato a chiedere ma GG mi ha detto che non è il suo campo e per ora ci dovrebbe studiare troppo sopra e perde troppo tempo e a me piacerebbe implementare le Power Windows di DaVinci Resolve le Hue Curves che anche quello è uno strumento molto potente all'interno del color correction bene quindi mi raccomando se siete competenti in C e in editing grafico per favore fatevi avanti che questo è veramente un bell'ambiente quello creato da la GG e Philips è un bell'ambiente con cui collaborare un saluto e ai prossimi video grazie a tutti grazie a tutti